musica 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 hola gamers e benvenuti in un nuovo video io sono hennie non senza pixel ma per un motivo ben preciso che per motivi di privacy non voglio dire e... purtroppo dovrò fare il video senza di due e mi spiace tantissimo davvero musica sorpresere qui ok 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 hai le skills? Cosa che vuoi stare? se è iscritto al mio canale ti invito a controllare perché aventi iscritti farò un super speciale buona visione si esatto ricordatevi sempre di farlo che aventi iscritti ricordo come magari alcuni non si ricordano si uscirà lo speciale cambiamo il mio e ma dai miei e ma dai miei oi no oi c'è un milione appare ho a a a a ahhh cracker facciamo vera ecco, spero e ho, non, ancora posto e sto veramente a scocciare mmmm oh che è davvero un giallo penning Puffa per me fa male. 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 Non mi piace, ma però è vero. I am not sorry. Svegliati Allora, andate! Commettono che lo sanno usare più Anch'io, dai, andate! E non ho paura di... Vabbè Siete più brevi del mondo Ascoltate Vabbè, dai Questo video può finire qua E noi ci vediamo alla prossima O la gamers Mi raccomando Spacca il tasto di mi piace perché Se arriviamo a 20 iscritti Faccio uno speciale Dove gioco con voi Quindi ricordatevi E... Buona serata A presto A presto A presto A presto A presto A presto